ADDICTION AAAAAAAAHHHHHHHHH AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Manca! Prenderò uno di quegli avvoltoi un giorno Lo prenderò! Non capisco perché ci tieni tanto Penso solo che mi farebbe sentire meglio Penso solo che mi farebbe sentire meglio Oh no è un leoncino! Quello non è un leone Beh allora va a controllare che cos'è! Ma quale leone? È un uccello con i peli! Ma sembra un leone! Non è un leon... Va bene controllo più da vicino Scusami dunque vediamo questi dentini È un leone! Pumba! Scappa! Scappa! Aspetta, aspetta! È un cucciolo! Ma poi cresce! Possiamo tenerlo? Possiamo tenerlo, per favore? Ok, lo prometto, lo porto spasso ogni giorno Se combina guai, pulisco io Il guaio lo fa passare a te, ti mangerà e userà me come stuzzicadenti Ma un giorno, quando sarà grande e grosso, sarà dalla nostra parte Che idea! E se stesse dalla nostra parte? Apri le orecchie! Avere un leone feroce per amico potrebbe essere una buona idea Vuol dire che possiamo tenerlo? Sì, certo che possiamo tenerlo Chi è la mente tra noi due? Lo chiameremo Fred!